E allora avevamo promesso un calcio di... Da Luca Gigliotti non si ri Giorginio, perché sennò è un disastro. Oh, povero Giorginio. Con un calcio di rigore fondamentale. Diamo a Giorginio. Ma ha sbagliato anche lui, anche nel rigore Giorginio. Mi sono quattro i rigori consecutivi. Vabbè, molti rigori. Perché lui me l'ha detto che soltanto un folle può dire una cosa del genere. Che bugia è quella di Pinocchio Marotti? Sì, vada vada. Diceva che anche se nell'ultima intervista, proprio dove lui diceva che è la Juve favorite, dichiara anche che l'Inter comunque quest'anno chiaramente ha come obiettivo anche lo scudetto. Quindi poi ha concluso con un dulcissimo punto inaspettato. Giustamente, sono con il Napoli la squadra più forte. Solo che il Napoli si fa tomane da solo. L'Inter invece si fa del bene. Contro la Juventus. Stavo male. È brava, dico, secondo te. Non un minuto, diciamolo. Perché, insomma, voglio dire, mi ha concesso un'intimità incredibile. Oggi come essere veramente a casa qui, io voglio introdurre i nostri protagonisti dando un dato. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro l'Inter, pensate 87 su oltre 180, ragazzi. E quindi abbiamo Filippo Tramonti... Avrei gufato però vedo uno di... Francesco e caro Filippo, la prima notizia è che avete perso la Castagnotto. E qui a Napoli, ragazzi, arrivederci. Beh, no... Sì, no, no. Beh, bello scambio, ragazzi. Avete vinto voi. Allora, mi spiace perché... No, allora me l'ha riportato. Allora... Fino al 2027 il contratto, quindi Maroc. È un atto con Conte dopo essere stato eliminato dal giro... Lukaku ha fatto...